Questo sarà un silverfish, lo scopriremo nella prossima puntata Ciao a tutti sono MobSpawner, io sto lì dentro così per cagare il cazzo Il cazzo è un tennis! Intanto te lì muori perché sei stronzo Ok, lì posso anche saltarci Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qua nel secondo incredibile episodio di Minecraft del giorno Che sarà tipo l'ottava puntata da RageCraft Non me lo ricordo Cosa da RageCraft? Tipo una CTM impossibile, lunghissima Una roba micidiale Probabilmente mi porterò da qui avanti fino ai prossimi due anni Perché è lunghissima E vi inviterò a guardarla perché comunque sia la map fatta veramente veramente bene Sto cercando di portare qualcuno nella mia serie Di persone che magari voi conoscete anche molto bene Su Youtube insomma persone coi fiocchi E ora se ci riesco riuscirò a portare qualcuno Comunque non è detto, non è detto, non è detto Più mi piace lasciate più è facile la persona entry Chissà perché Comunque oggi siamo qui di nuovo al monumento Che già avevate visto nella scorsa puntata Siamo super velocizzati perché abbiamo il Nexus qui Questa era la mia casetta Eravamo andati avanti ma ovviamente siamo morti Perché non è che questo gioco è facile Quindi adesso corriamo Ci buttiamo in acqua altro che scorciatoia E vaffanculo la scorciatoia E ci ributtiamo nelle rapide Vi ricordate? Ero morto in mezzo alle rapide Non perché l'acqua me la schiaccia Ma perché se era in un punto Era pieno di mob E sono esposo da un creeper Succede E lo so che succede Però Insomma gira anche un po' i coglioni No? Una nuvola dentro la montagna What? E chissà cosa si c'era all'interno di quel buchin Questo sarà un silverfish Lo scopriremo nella prossima puntata Semplicemente luce Va bene eh ci sta Esattamente qua Che è pieno di roba Come vedete Ho le sorce Sì mettiamone giusto un pelo di sorce Perché sono morto da un creeper Allora io qua Se non c'è nessun spawner Anche se la cosa un po' mi puzza Frecce che non fanno mai male Una golden apple Ender pearl Che anche esse non fanno mai male Leviamo i qualsiotte di polo Tanto vaffanculo Ok no Possiamo riprenderci tutto Siamo super veloci Guardali schifido Brutto merdoso Schifo 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 Cos'è una strappola Una strappola Una strappola Una strappola Una strappola E la madonna E che è Guarda che schifo Guarda brutti Si spingono anche Si spingono E quello è la cosa divertente Che si spingono Ma sono infiniti Ciao a tutti Sono mob spawner Io sto lì dentro Così per cagare il cazzo Nemmeno mi metti un treasure Un reward Qualcosa No Ma noi Dovente Dovente Li chiudiamo dentro Li chiudiamo dentro Va bene L'hai voluto te L'hai voluto te L'hai voluto te E noi chiudiamo qui un secondo Almeno Questi li abbiamo eliminati Qui c'è i creeper Che sono nell'acqua Quindi io non ce ne frega niente Ah vedi Non fanno niente Fanno solo danno a se stessi Insomma Autolesionisti Ovviamente Sono contro L'autolesionismo Me l'avete chiesto in un video Ma ve lo ritirò Tanto sicuramente In un cosa ne penso di Quindi non vi preoccupate Ho finalmente Qualcosa Che mi fa Drizzare i capelli Allora Qui sono tutti Dei libriccini Dei libriccini importanti Tra l'altro Comunque a 64 Arote Potremmo lasciare il pesce Vediamo un po' cosa fare Allora Poi qua dietro Ci sarà tipo Il mondo Oramai Ma non mi stupirei Vorrei Ma non posso Fidarmi di te Io non ti conosco Ma in fondo Non c'è Non so Come fa Tadadam Tadadam Intanto Tanto sono morendo tutti Intanto Mori te Mori ce Mori lui Anche laggiù In fondo Allora Vi spacchiamo questo Non ci dovrebbe più essere Nient'altro Qui dentro Ovviamente Non ce l'ho Guarda Ma non c'è bisogno Di dirmelo E adesso vogliamo Che magari c'è qualcosa Potevo saltare tutto Bastava buttarmi qui E invece Quindi ci ributtiamo giù per il tubo Bello Allora attento A quel che facciamo Ok siamo arrivati in un'intersezione Diciamo seria Qualcosa di tangibile Quindi allora intanto andiamo qua I cactus Ma magari c'erano qualcosa di nascosto Cioè non è che sono un indovino Altrimenti a quest'ora non ero qui Ma ero lì Accanto no? Dio c'è il mobile Magari dentro c'è qualcosa No ok Non sono stati tutti superficiali Ok lì c'è una casetta Intersection Se vuoi su c'è l'intersection Magari allora quello fermi Fermo la barca Magari lì dentro a questo punto c'è il teleport Che potrebbe essere una cosa molto utile Se c'è il teleport Almeno torno a casa Mi sbaracco un po' di cose E sono di nuovo vuoto Pronto per l'avventura Fai provare la cetta Che mi sembra veramente forte questa cetta Com'è? Ti piace la cetta eh? Da dove sei sponato? Cioè perché tu spawni così dal nulla eh? Chi t'ha dato il permesso? Chi t'ha dato? Eh? Chi? Mo mi dici chi t'ha dato il permesso Qui dentro c'è dei letti Ah dove si può dormire i ditesi? Boia se c'è gli mostri Vai Bada lì che mostri Bada lì Bada che mostri che fanno Che sto dormendo però Almeno dormo qui Sono tranquillo E vaffanculo eh Qui si può salire Io ho ancora il teleport Non l'ho sbloccato Cioè almeno Il teleport c'è scritto Che si sblocca da soli Qui c'è ancora l'etti C'è l'ender C'è sta Aaaaa Aaaaa Ok Questa è la zona Come si chiama sta zona? Area Zeph Avete capito? Poi Di qua ci dovrebbe Light blue crystal Area Qualcos'altro Can't find the last area Disintention Check downstairs By the water Eh? Checkpoint su I checkpoint Ok Qui ci sono gli checky point E Checkpoint to the Nexus Ok Ok Abbiamo sbloccato un'aria Però adesso Qui abbiamo delle chest Non ci sarà assolutamente niente Sì Un libro ovvero Sulle aree E qui delle torce Per fortuna Un po' di pane Un po' di mele Che non fanno mai male Possiamo andare Oh qua che c'è due lane Andiamo No andiamo nella monolana Per ora Mi ispira di più Potete andare a scrivere magari Più facile Più difficile Ah qui possiamo anche lasciarci Delle cose Interessanti Perché possiamo venire a riprenderle Quando vogliamo Tipo gli smeraldi Peraltro gli smeraldi Potremmo anche lasciarli a casa Ma Ovviamente Sono troppo Troppo intelligente Per lasciarli a casa Mangiamo velocemente Mentre camminiamo E andiamo Nella prossima area Che è l'area Della lana blu E ci sono sei smeraldi Mi pare di aver letto Quindi dobbiamo prenderli Tutti e sei Anzi Almeno Tre Sei Almeno nove Almeno Cioè almeno quattro Scusate Ho già cinque Almeno si fa Il primo cubo di E Lì c'è una cesta Ad esempio Con una redstone Accanto Io ora non posso Spaccare la redstone Intorno Perché ragazzi Se spacco la redstone Cioè se spacco la cosa Però se spacco questa In teoria dovrebbe Non succedere niente Giusto? Una da po' Di feather falling Che mi ha detto Sai Quindi anche questa Almeno sei contento Adesso entriamo In questa casa Maledetta Sicuramente Che tanto Non c'è ancora Penso che non esista Qualcosa di non maledetto In questa zona Cioè in questo gioco Più che in questa zona Cioè in questa mappa Più che in questa zona Cioè in questa zona Più che in questa mappa E andiamo Esploriamo un po' Il perimetro Ok Non vedo Non vedo mosche Dalle finestre Quindi probabilmente Non ci sono Cosa hai detto Sbuchi Non ci sono i mob Ma tu stai fuori Ok Questa è una camera Da letto Ok E va bene Questa Qui c'è un villagero Grandmaster Xin Mi scambia 64 bedrock Per 60 Simpatia E se lo ammazzo Important Lore Obiective Scritto in pratica Devo ammazzare Io sto per ammazzarlo Ma se lo ammazzi Lui è quello Ti dà la lana blu Quindi Non so se si può ammazzare E' bene non farlo E lui in pratica Mi ha detto Di slainare Cioè di uccidere I suoi I tre sensei attivi I tre sensei pazzi Così che possa Sbloccarmi La porta Per la lana blu Io sinceramente Volevo un po' di bedrock Ma va bene lo stesso Che questa è una stanza De torte E noi andiamo avanti Allora giusto Tanto porte bellissime Complimenti Alla Grandmaster Xin Per la scelta Dell'arredo Ok Cioè questa è una zona Molta Una zona tranquilla Forse Ecco Cioè a parte si Tranquillissima Però Il ragno Il ragno Il volo Ho preso Madonna mia Un tennista davvero E questo è un tennista Un creeper Un creeper così a caso Tanto per far qualcosa Datemi un creeper Anche a me Voglio anche io Un creeper Make sure to read Objective in house Before enter desire Ok si Gli ho letti tutti Ma le nuvole Qui sopra Sono veramente Odiosi Ok Comunque Mi si è abbastanza Devo killare Tre vecchietti E abbiamo fatto Senza Prova una cosa Facciamo così Movo Movo Spiego Dormiamo Dormiamo qui Almeno Siamo tutti più contenti Almeno Se si muore Cosa che è Molto 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 Probabile Si Si può rispondere qui E non farci 72 chilometri Giusto Giusto Scuidiamo anche le porte Almeno siamo sicuri Sono un Sono un pellegrino Cioè dormo in casa di tutti Non conosco nessuno Un campione Sono Il campione Dello scrocco Sembra abbastanza semplice Dobbiamo killare Tre vecchietti E via Eccolo lì Si è già iniziato male Si è già iniziato malissimo Direi Non mi sembra Difficile A meno che Questo c'è gli occhiali Questo è un grand master E' un sensei E' un speed master Sono tutti speed master Chi è che mi sta facendo Recando Del danno Chi Chi è che mi reca del danno Chi 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 No Ho capito però Sono tanti Sono un po' tantini Ma noi Non ce la facciamo Prendere male Stavolta Cerchiamo di Di capire Da dove Provengono I nemici Intanto Te Li Muori Perché Sei stronzo Quello lì Da dove Da dove Arrivano Questi schifidol A me sono le pagine Del giornale Ok Kill Kill rapida Kill rapida Del Del Di questo Coso qua Ok lì posso anche saltarci Forse ci arrivo No Bene 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 Bravo 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 Sbucci Bravo Bravo Hai fatto veramente bene Hai fatto una mossa Guarda Doc Tra l'altro ho come le mine Guarda Ho come le bombe No 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 Cos'è Ma perché poi arrivo lì Su il pezzo E non salta Ma Dio santo Salta Salta Bambinetto di merda Fare i scalini Figuratevi 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 Pem Pem Ok Tesse fino di sotto E posso quindi spaccarlo Velocemente No Perché mi ha cambiato arma 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 Perché me l'hai cambiata Non arrivare Non arrivare Non arrivare Ok L'ho rotto L'ho rotto Non sponi più Non sponate più Non sponate più Corriamo un secondo Io che corro Corro Voglio Voglio capire un secondo Dove cavolo sono Perché Mi farebbe piacere scoprirlo Lo rompiamo così rapidamente Agile Agile Almeno non respona più E non ci rompe più Il pallo Saltiamo qui Ok Qui c'è una danna verde Ma come ben sapete Oramai Guardando la serie Ah Questo vuol dire C'è uno smeraldo E lì C'è uno spawner Di schelet Addirittura Empowerati Feder falling Quindi non dovrei farmi niente Il cazzo Ok Mi sono ovviamente Shottato E ho firmato La mia condanna a morte Ok Non ho più il jump boost A quanto pare Non si capisce Come spawnano tanti mob Se io spaccavo tutti Tutti gli spawner Però va bene così A noi ci piace Ci piace L'hardcore Serio Bastava dirlo Bastava dire Guarda sbucci Non ti vogliamo bene Anzi Ti vogliamo male Ok Chiediamo il ragnetto Bene Non ci ha colpiti Bravissimo Sbucci Il mio non corre più Cerchiamo di buttare giù lui Cerchiamo di buttarlo giù Qui sarà un problema Solo a vivere Sarà un grosso problema Solo a vivere Veramente grande Veramente grande Grande come te Non c'è nessuno Grande Grande come te Non c'è nessuno Al mondo A presto Chiu Grazie a tutti.